E di tanto in tanto senti Cap che fa lo slow volto Porco Dio m'ho preso No no Mi ci vogliamo, mi ci vogliamo la cazza E' a mia cazza, levatevi E' la cazza Cap, fate prendere il killer per favore Prima prendo ricompensa E' il dottore? Stiamo cazzeggiando A proposito Cap, se ci sono tipo Dei tui video dove ci sono io Bestemi sulle madri a bestia ci saranno Vabbè, chissene Ho trovato totem spento Ho salvato tutti, devo fare sfida Anch'io, cazzo Ho trovato una mappa verde Tranquillo, tranquillo E nemmeno li facciamo Ecco, ecco, guarda come è sensuale Posso dire che le c'è meno di già Non, 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 sta arrivando Ecco, dottorino, ecco, dottorino Io ragazzi sto sotto al templo Se volete venire Ovviamente viene da me ragazzi Ma di che cazzo stiamo parlando? Il templo Il templo Il templo O il template Il template, no, il template Sto sotto No, c'è lo slappy bache E' che io sono al bordo della mappa Qualcuno Ah, sono morto Non c'era un pallet Non c'era niente Ho scappato dalla parte opposta Ho detto che non verrà mica da me Il cazzo proprio E io sono il primo del game Va bene, ok Barbecue Non c'è lo shakka Non c'è lo shakka Ovviamente il primo del game Sono proprio io Dove sta andando No, non lo vedo più Bene, ci sono già io a fare il save, ragazzi Oh, c'è insidious ragazzi C'è insidious No, che schifo C'è insidious C'è il dottore insidious C'è insidious Allalalalala Scanzano ci la fai quella di te Che quasi finito all'geonac E' quasi Sy Spit No, no, è fermo Mi camper sul父omo Sculo e mi colpisce E allora io Eb igorico E' così lì Mi diamo con avanti Il dottore Ti riusciamo a stay Madonna che schifo E' così lì E' così lì E' così lì E' sì lì E' così il fiammico E' così lì Adesso Questa che si intende E' così lì c'erano più no, li bannano ma magari mi bannassero, guardalo come facecamper raga ma lo salviamo? io non posso ragazzi, sono ferito che lo sto ti beccando e non mi... guardi qui vai tu, tronco, vado io ah, faccio scambio di gancio piuttosto, ragazzi è libero? niente, ti segui? guarda come tannerò ce l'hai il decisive Kazama sta arrivando da te dove hai fatto il jam ma no, però almeno... no, ragazzi, però fatti il jam perché se questo pickcamp era così, almeno... eh lo puniamo decisivo ce l'hai? l'ho sbagliato come l'hai sbagliato? nooo non lo so fare, è la seconda volta che mi capita che non riesco a farlo ha perso il pick vabbè eh, questo no, no, io gli scrivo, quindi siccome si chiama gli scrivo diventicheremo io io questo no, è troppo impazzito, io questo gli scrivo io forse uno in uno che ha Insidious, mi muoverei, poi chi mi passa la volta? livello 11 sc, ma pista, ma pista, ma pista, ma pista sono a metà di un jam ragazzi e questo gli scrivo tutto il game, tutto il game gli scrive si, fagli... si, almeno si distrae sono dove è morto, è stato appeso Ross praticamente la prima o la seconda volta? la prima volta eh, che punto è stato oggi curami, curami non uso per il popolo, sennò qui c'è rischio che... che ti becchi un facecamping in da face ce l'hai ancora te, Kazano? no no, via! no, vuole te ragazzi, chi mi facecamp era peggio di... peggio di Rossi, sicuro preoccupare, ti anrasciamo e ti lasciam sull'oncino tranquilli vai grazie ragazzi get a life oh ragazzi che provata che ho fatto beh mai via stronzo stronzo dove sei Kazama? ragazzi ho fatto una skillata assurda dove trovi in mezzo e porta tuttana dove ci sono tipo i monumenti ma che mappa c'è io? no arrivo io proprio e mi desidera sto presso Defando vieni qua 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 no ma no c'è ti devo sti davo per il popolo bordo da fare bollo ma lo sapete che appena scatta di l'ultimo gen siete a te allora mi fai scampere ragazzi che cerno eh sicuro mi fischiamo ragazzi se mi salvate io questa la devo mettere su youtube per forza ho fatto una skillata assurda con tutte le bestemmie di rosso esatto esatto si si chi se ne frega delle bestemmie contenuto ricreativo guarda dove stanno le uscite è qui fermo davanti ragazzi mi guarda mi controllo è dietro un angolino ragazzi eh allora mi vedi no dove siamo? si si vi vedo entrambi allora ragazzi se venite tutti e due in modo che si muove riuscite a darmi il borro va bene io non c'ho il borro però c'ho più il popolo quindi in caso ti dirò sul borro però ah va bene vai vai guardalo è qui davanti è alla mia destra tra le due roccette ragazzi eh ok si è mosso è dietro provaci ora che sennò vado in seconda via eh ma qui te voglio io c'ho il decisive volendo va mi vuole meee c'ho il decisive aprite 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 si tira su? vieni a quella destra eh si ha fatto lo static blast non mi raccoglie e io ho strisce c'ho ancora 30 secondi di decisive aaaaaaah cappa cappa non ti sensi ben possibile lo pigliare di più no no c'ho il medic è quello veloce no mamma tu quello ce l'hai è qui fermo che non mi vuole tirare su io se c'ho per il popolo ti tiro solo guarda adesso dimetta tu non mi vuoi far fare punti io ho scritto io ho scritto volete sapere che ho scritto get covid 19 nooo mi ha raccolto adesso mi ha raccolto io ho scritto no ma pal ta stai torcendo qui questo gioco è una merda questo gioco è una merda vai 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 improvvaci beh devo farlo snap al diente non lo si vera niente vai avanti 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 mi curo e ti vengo a prendere ti vengo a salvare devo fare lo snap anche io sono davanti all'uscita ehm ti vengo a salvare qua easy ah ma non mi è partito il borroda ancora perchè ci aveva insidious ci sono vicini tutti e tre eeeeeee questa è carica su youtube si si ovvio